i show bentornati burtelli nel mio canale io sono come sempre near the engineer e oggi siamo qua con un altro episodio di until dawn stiamo andando avanti siamo con il nostro mic ci hanno mozzato le dita ma ancora non il ca bene proseguiamo subito senza perdere tempo mi raccomando sempre attentissimi ok qua non c'è nulla non credo e andiamo verso la cappella ragazzi ci hanno scoperto ora dobbiamo stare super attenti a quello che facciamo qui c'è una sporgenza possiamo calarci le cose si fanno interessantissime ragazzi bene rieccomi qui ah si ora ragazzi direi che la strada è una sola controlliamo un attimo per vedere di di non perderci nulla io non credo spero di no attenzione coi colpi di scena che qua ragazzi attenzione ai cani attenzione al maniaco attenzione a tutto porca una cane di merda pugno dai pugno al cane dai pugno al cane cazzo non dovevo dargli un pugno devo scappare devo scappare no aspetta con calma con calma il cane ci fa male no sbagliato scusi scusi cane avvicinati indietreggia eh ragazzi ormai gli abbiamo dato un calcio indietreggiamo perché questo potrebbe potrebbe non dovevamo dargli un calcio ragazzi l'istinto ho agito purtroppo ho visto il coso speriamo che questo cane rimanga tranquillo per ora forse dovevamo essere un pelo più freddi e ragionare un attimo di più attenzione qui allora cosa abbiamo qui attenzione è nata andreiche ragazzi qua eh cosa fa si beve le coca cole oh attenzione la pistola attenzione non l'avevo vista non ci arriviamo non ci arriviamo ok dobbiamo tirarla verso ragazzi ma qua siamo degli ingegneri incredibili ok bene ottimo abbiamo preso una pistola ragazzi ci siamo anche messi il giubbotto cioè più di così ragazzi non si può veramente pretendere quindi cerchiamo di capire un attimo questa situazione non dovevo dare un calcio al cane purtroppo abbiamo fatto una cassata stoppiamo un attimo guardiamo un secondo coraggio troppo coraggio siamo troppo coraggiosi onestà poca siamo delle merde comunque cerchiamo di capire un attimo con gli effetti farfalla cosa sta succedendo perché secondo me abbiamo il miglior amico dell'uomo infatti Mike colpisce il lupo io avevo paura di questa cosa purtroppo ragazzi non dovevamo colpirlo c'è il rischio qua che che finisca male potevamo avere un valido compagno non so bene in quale modo avremmo potuto comprarci diciamo l'amicizia del cane qui non mi ci fa arrivare devo passare di qua eccolo il sigaro che avevamo trovato nella miniera tutto inizia a combaciare tutte le prove portano a lui vediamo cosa c'è dentro il baule speriamo non in qualcosa di bruttamente brutto aiuto tutte queste cose piano ok cazzo scusa cane forse questo farà stare buoni i lupi giusto mi sembra un'ottima idea potremmo forse ricomprarci l'amicizia del cane ragazzi andiamo a vedere se il cane ha intenzione di ci proviamo ci proviamo ragazzi c'è l'opzione dagli l'osso l'aggiornamento effetto farfalla ok forse ragazzi abbiamo abbiamo migliorato la situazione probabilmente calma bello calma bene così perfetto ok ragazzi abbiamo migliorato la situation sono contentissimo ottimo perfetto ragazzi ci siamo riacquistati alla fiducia del cane che bello questo gioco perché ragazzi si può anche riparare i propri errori con un po' di fortuna andiamo a vedere ora con un amico in più cosa c'è qua dentro questa porta c'è un'annata mostra quindi si è trovato Baccheca dei ritagli qua ci sono tutte le cose che sapeva lui a proposito di noi probabilmente adesso controlliamo è questo qua una mappa della montagna con avvistamenti e scomparse recenti annotati con relative date sembra il lavoro di una mente ossessionata testa di maiale attenzione una testa di maiale gettata sulla montagna fresca e ricoperta di sangue sono tutti gli indizi che non abbiamo ancora guardato probabilmente li dovremmo guardare però ora proseguiamo ancora un po' ragazzi perché altrimenti diventa un po' lenta la puntata se ci mettiamo a leggere tutto io probabilmente lo leggerò nei miei non così scusi ma non si può ma per forza non possiamo trovare qualcos'altro no è spazio non mi sembra la cosa migliore ma va bene dai va bene ragazzi abbiamo consumato un proiettile speriamo che non sia l'ultimo perché purtroppo non sappiamo quanti colpi abbia la pistola di là si può andare di qua no qualche totem qualche indizio non lo troviamo quindi proseguiamo con il nostro Mike il nostro Nathan Drake e al posto di andare giù guardiamo un secondo se troviamo qualcosa qua perché secondo me qualcosa ci può sempre essere da queste parti ragazzi abbiamo trovato tantissimi indizi probabilmente eccolo cosa vi avevo detto mai sottovalutare le aree aperte totem morte attenzione qui c'era Mike con un accendino Mike con un accendino attenzione qualcos'altro qua attenzione nei casi di colpi di scena improvvisi gli uomini del miracolo il riuscito salvataggio di tutti e 12 minatori rimasti intrappolati durante il disastro del 5 gennaio questi sono quelli sopravvissuti ricordati gli altri 18 probabilmente saranno stati usati da questo dottor Bowen per esperimenti brutali e meschini io credo che ragazzi la cosa sia andata così ora non mi è dato saperlo non ci è dato saperlo non ci preoccupiamo cerchiamo con le nostre dita mozzate e un amico in più il nostro lupo andiamo a vedere cosa c'è più avanti attenzione la musica sale ragazzi non so se voi la state sentendo bene quanto la sto sentendo io andiamo a vedere se qua c'è qualcosa prima di proseguire non c'è niente quindi proseguiamo senza aspettare troppo tempo perché il nostro Mike e noi stessi siamo affamati di conoscenza per il gioco siamo fin troppo coraggiosi andiamo a vedere cosa c'è qua qui c'è un trucchetto è chiuso ok occhio un'altra volta ragazzi no basta non possiamo sprecare tutti i proiettili così eh vabbè ecco ho fatto una cazzata io ma ragazzi ma scusate ma porca mignota scappa un uomo scusate se c'era la scelta di non sparare io non avrei mai sparato cioè guardalo con le telecamere bastardo ah ma lui si guarda il film con le patatine quindi questo è chiuso giusto esatto eh puoi dirlo forte amico caro Matt andiamo da Emily vediamo se c'è qualcosa non c'è nulla non sembra almeno non riesco a credere che sia morto Josh non riesco a credere che sia morto così no voglio dire e se si fossero sbagliati forse dovevamo controllare il capanno per vedere di persone non lo so ci sono cose che una volta viste non si possono più dimenticare si hai ragione ma certe cose vanno viste con i propri occhi a me basta la loro parola facciamo un giro ragazzi prima di proseguire come sempre perché è giusto capire cosa ci circonda se ci sono delle prove degli aiuti dei totem ed ecco qua c'è qualcosa che sbrilluccica non ci sbagliamo mai vernice è ancora fresca ok della vernice ok qua c'è un totem ah vedete ragazzi che serve esplorare salve amore mio caro Matt farai un volo incredibile io spero per te di no bene ragazzi tanti totem morti in questa puntata mortaggi nostri prendiamo l'ascia direi ma si prendiamo l'ascia prendiamo prendiamo buon uomo questa ce la portiamo dietro però indizio trovato ascia e adesso la porta è chiusa Matt sfonderesti la porta wow aspetta un attimo se buttiamo giù la porta ci sentirà tu hai un'idea migliore non saprei e se chi è che aveva le chiavi cosa una finestra ottimo da quella fessura ci passa solo il burro a cacao no andiamo tu non passerai mai di là ragazzone sfonda la porta aiuta Emily a passare proviamo a fare qualcosa di stealth cerchiamo di io non ci passerò ma tu si ma sei matto vuoi che mi infili in quel buco minuscolo ti ho visto assolutamente si è un talento pensane un'altra non posso farlo probabilmente il maniaco è seduto proprio sotto quella finestra aspettandoci mentre sorseggia una pignacolada potrebbe essere effettivamente ok va bene d'accordo adesso io adesso fallo e basta quindi ragazzi abbiamo provato a vedere di usare anche Emily di renderla utile ma non è utile a niente si la mente basta ragazzi ma devo anche tirarla fuori figo come on come on dagliela la botta ok occhio ora calma circospezione dannazioni cosa è successo questa è follia siamo stati qui solo poche ore fa deve essere appena successo cosa cazzo sta succedendo deve essere quel tizio quello che chi ha preso Chris Ash e Josh deve sapere che questa è la sola via di fuga non lo dire guarda la cabina è finita laggiù beh in fondo voglio dire non è così lontana ci arrivi con un salto salto bene ma non così lontano grazie della veloce beh Matt se non ci arrivi con un salto cosa facciamo ora non lo so ok ragazzi con calma siamo insieme a Emily che è qualcosa di orribile perché ci può mettere solo fretta non ci fa ragionare ci mette pressione noi abbiamo bisogno in questo momento di stare calmi e capire quindi cosa troviamo qua cosa c'è ok quindi c'è una sorta di torre radio che forse possiamo usare torre antigenio ehi Marco Polo e se mettiamo in funzione la funivia e ci diamo una mossa forse non si può mettere in funzione cogliona con calma eh sì non mi piace ok ragazzi quindi cerchiamo di oh esatto qua speed control scusate non posso metterci le mani no acqua niente chiavi niente capina siamo al punto di partenza che ne dici della torre antincendio quella sulla mappa ma cos'è che è scema è scema questa forse c'è una radio o qualcosa voglio dire sarebbe logico no sì forse Matt dobbiamo arrivare a quella radio no torniamo indietro d'accordo andiamo forse è l'unica forse è l'unico modo per salvarci ragazzi io non lo so io andrei alla torre radio piuttosto che tornare indietro e rischiare di essere presi guarda che siamo nei guai fino al con wow Matt calma attenzione Emily continua nel suo modo incredibile di rompere il cas ma è così cosa facciamo la seguiamo aspetta che stai facendo tesoro ci sto tirando fuori da questo casino genio ci sto tirando fuori da questo casino ragazzi non dovrei dirlo ma se muore io sono contento di una lentezza infinita prego signorì ma guarda qui tu vieni con me bella e come per magia vieni possiamo uscire passando di qua procediamo attenzione dove cazzo va questa si porca grazie forse dovresti andare tu per primo per proteggermi eccoci se mi da anche la torcia magari è vero ok 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 piano adesso ok bene oh mio dio quasi ci sono mi sento svenire guardare giù ok ok porca troia grazie al cielo è fatta vuoi dirlo forte ok conseguiamo continuiamo a seguire questa signorina di poco valore qua ho visto subito il totem e ce lo andiamo a prendere così e chissà cosa ci dirà questo cos'è guida abbiamo visto Emily con una pistola e abbiamo visto Matt abbiamo visto che lei consegnava la pistola penso fosse un lanciarazzi di quelli di segnalazione totem guida è quello che ci dice cosa fare quindi se ci capiterà una pistola dovremmo consegnarla a Matt eh non credo qua scusate qua c'è qualcosa no nascondiamo nella baita quello se lo aspetta di certo cerchiamo sempre di non perderci nulla durante il tragitto ragazzi e seguiamo Emily vediamo se arriviamo alla torre ragazzi ho visto un altro totem attenzione bianco fortuna Ashley e Chris totem fortuna ok buono posto di proseguire dove va Emily che penso sia la strada giusta vediamo se c'è qualcosa di qua c'è un cabanno attenzione dobbiamo investigare secondo voi io cercherei attenzione con i cosi ah il telefono è il telefono della ragazza che è morta è vero il telefono di Beth vi ricordate ragazzi beh questo se lo sono persi proseguendo di qua c'è qualcos'altro no ok va bene proseguiamo ragazzi senza perdere troppo tempo abbiamo trovato il telefono di Beth questa è una cosa importantissima perché potrebbe dove va che potrebbe aiutarci a capire cosa è successo alle ragazze dato che loro i personaggi non lo sanno questo è stato il ciglio del dirupo dove sono morte le ragazze eh oh non so cosa dirti quindi dove cazzo andiamo scusi sopra non c'è nulla quindi che dobbiamo fare scusa signori ma 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 che cos'è no così però ragazzi non toccheremo nessun cervo abbiamo visto col lupo non bisogna toccare la natura finisce qua attenzione siamo tornati con Sam ragazzi oddio oh cazzo c'è il maniaco lì e Sam non se ne è neanche accorta se ne va il maniaco così faccia con comodo eh ehi ragazzi cosa ci fate lì fuori volete stavamo a spiare stavamo a spiare le tette ok no non si rivesta signori Sam baita degli Washington l'1 e 11 cazzo l'1 e 11 farci un bagno ragazzi terminiamo qua anche questo episodio non andiamo troppo oltre perché altrimenti sempre il solito problema di linee interne che non caricano mai i mortacci dei tè dei tè delle linee spero che anche questo video vi sia piaciuto ragazzi stiamo cercando di mettere insieme tutti i pezzi Mike sta bene Emily e Matt stanno andando alla torre radio per cercare di contattare qualcuno Sam ora è nella merda fino al collo perché è da sola in casa con il maniaco con un asciugamano bagnato addosso quindi ragazzi non so che cosa possa ancora succedere di certo so che questo gioco è bellissimo mi sta piacendo tantissimo ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti lasciatemi tanti like iscrivetevi al canale detto questo da Nerd Engine è tutto ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao